Ciao a tutti, mi chiamo Rotatore Carmine, sono un cittadino di Carmiano e sono qui per presentare un progetto che sono le fioriere che dovrebbero essere realizzate con il progetto partecipativo nelle zone che vanno sul ponte di Carmiano in quanto già è una bellezza e mettendoci delle fioriere potrebbe essere rivalutato tantissimo e l'altro è Via Giacomo Leopardi dove viene fatta annualmente la festa dell'ospedino quindi lì si pensa di mettere delle fioriere in quanto è stato adibito anche come parcheggio e quindi per dare una maggiore caratteristica alla zona interessata a questo punto io direi votate